Amici belli, amici belli dello svapo, qua, tutto a posto, qua, è tutto a posto. No, non mi sono trasformato in Luigi d'Alessandro, ma piuttosto ho avuto il piacere di conoscerlo ieri sera al primo svapo evento tenuto nel locale di Lucky Punk Star, organizzato da Arcangelo Bove Svapo Web. Dopo quasi tre anni di svapo vengo a parlare di un liquido che ormai conoscete tutti, io non faccio troppi movimenti in internet, quindi lo assaggio adesso per la prima volta omaggiato direttamente dalle sue mani ed è, lo conoscete, il Positano. Mi ha regalato una boccetta zero di nicotina, così lo assaggio bene e lo sto assaggiando. Che dire, con questi liquidi potrei soprannominare Luigi d'Alessandro i Kaifun dei liquidi, perché per quanto a me non faccia impazzire i Kaifun, però è indubbio che il Kaifun sia quell'atomizzatore che abbia comunque messo d'accordo un po' tutti, un po' la maggioranza dei Vapor. E con il Front Lake, comunque Positano e altri liquidi che sta producendo, insomma Luigi d'Alessandro è riuscito a mettere d'accordo un po' tutti i Vapor, infatto di gusto. A tal punto che io non voglio recensire questo liquido, nel senso che direi ancora le ennesime cose che si sono dette, più che recensirlo, confermo anch'io quanto si è detto che è un'ottima crema di limone, molto proprio cremosa, fatta bene, piacevole, originale, originale, a tal punto che l'unica cosa che posso dire, assaggiandola adesso, arrivandoci in ritardo, io posso dire che la buona riuscita di questo liquido è confermata dal fatto che io ho provato, prima di provare questi liquidi, questo liquido di Luigi d'Alessandro, altri liquidi che posso dire, essendo usciti dopo, che l'hanno scopiazzato, quindi l'hanno scopiazzato, che poi siano riusciti meglio, a mio avviso no, però insomma, dato di fatto è che questo liquido qua è stato assolutamente scopiazzato da più di un brand, quindi questa è la tangibile conferma, al di là di tutte le personali opinioni, che Luigi d'Alessandro ha sfornato un liquido perfetto, se no altre aziende non l'avrebbero scopiazzato, tutto qui, io posso solamente metterci del mio e dire anche a me piace, e più che altro posso solo salutare ancora Luigi, fargli tutti i miei in bocca al lupo e in culo alla balena possibili, affinché riesca ad entrare anche lui e commercializzare questi liquidi, quindi io gli faccio tutti i miei personali in bocca al lupo, perché se lo merita, seguiti da secondo me un augurio ancora più importante, che una volta, augurandogli appunto di riuscire in questo suo obiettivo, in questo suo sogno se vogliamo dire, una volta che dovesse riuscire ad affermare questo suo sogno, di non perdere questa semplicità, questa passione, che lo contraddistingue e gli fa creare questi risultati. risultati, non posso dire nient'altro, altre cose sarebbero fin troppo scontate, quindi è inutile aggiungere l'ennesimo video che descrive che cosa è il Positano, lo sappiamo, sarebbe superfluo, piuttosto confermare, è buono? Non è buono? Ma! posso solo dirvi molti brand hanno iniziato a copiarlo. Ciao Luigi!